Il capitolo sedicesimo del saggio di Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, è un testo rappresentativo di come gli intellettuali di età illuministica si spendano per le idee che assicurino alla società una possibilità di riforma, di miglioramento, di cambiamento, per cui negli anni stessi in cui viene pubblicato questo testo importante, importante perché fu un vero e proprio bestseller che valicò i confini italiani e trovò un'ampia diffusione e ampio interesse in tutta Europa, negli stessi anni, qui siamo nel 1764, sono gli anni in cui è attivo anche il caffè, la rivista letteraria dei fratelli veri a cui aderì anche Cesare Beccaria. Perché è importante il saggio di Beccaria? Perché mette in evidenza come la pena di morte sia assolutamente una usanza barbarica, sia frutto di un'aberrazione del genere umano. La pena di morte di per sé dice anche delle cose molto moderne può valere come spettacolo, può valere come un tormento temporaneo che è atto a suscitare la pronta reazione del pubblico che vi assista, ma in realtà non ha certamente uno scopo, non è assolutamente necessaria. È proprio il brano di cui ci occupiamo in questo video, il capitolo 16, in questo brano proprio si apre evidenziando come la pena di morte possa darsi per necessaria soltanto in due casi, due casi che hanno a che fare con la sicurezza dello Stato, vale a dire soltanto nel caso in cui la sicurezza dello Stato venga messo a rischio, a repentaglio, allora a quel punto è opportuna, può parere opportuna, può sembrare legittimata la pena di morte. Ancora una precisazione, è un testo interessante perché è costellato di riferimenti ad alcuni concetti che sicuramente sono cardine per la visione della società degli illuministi. Il concetto della libertà, della felicità, della dignità dell'uomo è anche un'attenta riflessione su quello che è il ruolo, l'importanza delle leggi. Ma ritorniamo a quello che stavo dicendo. Necessaria la pena di morte è soltanto nel caso in cui si attenti alla sicurezza della nazione. Quindi nel caso ci sia il rischio, cito il testo, di una rivoluzione, il caso di un pericolo di anarchia, di uno Stato di anarchia che dunque significhi confusione, significhi pericolo per i cittadini. Ma in questo caso è la situazione di disordine che viene messa innanzi, mentre invece per contro Beccaria afferma, c'è un argomentativo molto forte, che durante il tranquillo regno delle leggi in una forma di governo che sia ben munita al di fuori e al di dentro della forza e dell'opinione, in questo caso la pena di morte sembra del tutto ingiustificata. Non c'è, in uno Stato di ordine, in uno Stato in cui non ci siano dunque le condizioni di pericolo e di rischio, Beccaria dice che non vede nessuna necessità di distruggere un cittadino, a meno che la sua morte non rappresenti come deterrente un unico e vero freno per distogliere gli altri dal commettere delitti. Il ragionamento di Beccaria si snoda per alcuni concetti che sono anche estremamente moderni, specialmente ai nostri giorni in cui alla tv si punta molto alla spettacolarizzazione, ma anche nell'ambito dei mass media, del giornalismo, si punta sempre a creare delle notizie che suscitino una immediata reazione, che siano di grande effetto. E allora ecco che Beccaria precisa una distinzione tra quella che è l'intenzione della pena e quella che è l'estensione. E il ragionamento si articola in questa direzione. Quando parla di intenzione della pena intende parlare di una pena molto grave che sicuramente costituisce uno spettacolo per chi vi assista. La morte di uno scelerato è uno spettacolo però che si configura come uno spettacolo passeggero, mentre invece, a suo giudizio, non è importante tanto la gravità, l'intensità, quanto piuttosto la durata della pena. Per questo parla di estensione, perché dice che la nostra sensibilità viene toccata in modo più facile e più stabile da minime ma replicate impressioni. Da una parte, come vedremo, il discorso sviluppa l'idea dell'inutilità della pena di morte e dall'altro l'alternativa è rappresentata, perché secondo Beccaria è molto più efficace, dalla quella che lui chiama schiavitù perpetua, vale a dire uno stato di detenzione. Rispetto ad una morte che può anche sembrare spettacolare, sicuramente la prospettiva di una detenzione per molti anni, che significa la perdita di libertà, rappresenta un deterrente molto più forte per distogliere dall'idea di compiere reati, ingiustizie, violenza. Certo, si tratta di uno spettacolo, ma è uno spettacolo passeggero. Per quale ragione? Perché è destinato ad essere dimenticato. Cade nel dimenticatoio, dice la pena di morte fa un'impressione che con la sua forza non supplicce alla pronta dimenticanza. Ecco dunque che la pena di morte, cioè la pena intensa, grave, in realtà non resta, non permane nel ricordo, bensì è destinata all'oblio. Per quale ragione? Perché c'è una regola generale, le passioni violente sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo. Questa è l'idea di Beccaria. Uno spettacolo, quale può essere rappresentato dal momento della condanna a morte di uno scellerato, sicuramente potrà suscitare la compassione, potrà muovere allo sdegno. Ma non si tratta però di un salutare terrore, che se volete è un'espressione ossimorica, il terrore, che però è salutare perché punta alla salus dello Stato, della cittadinanza, dell'insieme dei cittadini. Vale a dire. Da una parte abbiamo, ribadisco, il ragionamento è a forcella, da una parte abbiamo lo spettacolo passeggero che però suscita sentimenti ma è destinato all'oblio e dall'altro invece abbiamo il salutare terrore che è legato oltretutto alla legge che è la legge ad ispirare. Dopo aver parlato di questo, si occupa in un paragrafo piuttosto lungo del discorso della perdita, della perpetua perdita della propria libertà. Ecco che cosa sta sull'altro piatto della bilancia, la prospettiva di una schiavitù perpetua e più volte ritorna su questa espressione affermando a chiare lettere che la schiavitù perpetua rappresenta un'esperienza dolorosa quanto la morte. Perché? Perché sostanzialmente la pena della schiavitù coincide, la pena della detenzione dunque coincide con la perdita totale della propria libertà e quindi è lesiva della dignità dell'uomo che si esplicita espressamente nella possibilità di vivere in libertà e felicemente. A questo punto c'è un passaggio molto importante perché le argomentazioni dell'illuminista Beccaria non potrebbero in altro modo ricevere più forza se non dall'espediente di dare la parola a un ladro oppure ad un assassino. Vale a dire, nel discorso che sta conducendo Beccaria ad un certo punto, da la parola accoglie nel suo saggio il ragionamento di un ladro o di un assassino. E questo è interessante perché la dice lunga sul fatto che effettivamente per gli illuministi la ragione è fondamentale ma nella ragione rientra anche la capacità di comprendere o di accogliere il punto di vista dell'altro. Ed ecco dunque che a questo punto si dà la parola proprio a chi potrebbe essere immediatamente interessato o direttamente interessato alla prospettiva di una pena. Che cosa afferma? Il nostro libro mette addirittura in carattere corsivo il discorso diretto del ladro o dell'assassino. Afferma una cosa, fa una considerazione interessante. Dice in fondo che la propria condizione, che è una condizione di indigenza, è legata ad un'ingiustizia sociale. Questo è un punto importante perché contrappone dunque la propria condizione a quella di chi, come dice lui, è uomo ricco e potente o chi addirittura viene definito come indolente tiranno. Da una parte dunque ci sono i ricchi e i tiranni e dall'altra parte c'è chi come il nostro ladro e assassino, a cui Beccaria dà la parola, si trova a riflettere sulla propria condizione. In un passaggio però il ragionamento del ladro è debole perché gli conta di riscattarsi, di ritrovare la propria libertà e felicità, di restituire, di ritornare ad uno stato di indipendenza naturale. Qui viene facile il collegamento con Rousseau che aveva esaltato nella sua opera lo stato di natura contrapposto invece al vivere moderno, alla civiltà che aveva assegnato un regresso, un allontanamento dalla felicità primigenia. Ebbene il ladro considera che potrà riscattarsi dalla propria infelice condizione grazie al coraggio e all'industria. Verrà un giorno in cui il proprio, verrà forse il giorno del dolore e del pentimento, quindi in riferimento alla pena di morte, ma sarà breve questo tempo. E quello che è importante per lui è il poter correggere gli errori della fortuna, tanto più che per il ladro la prospettiva della religione consente anche di percepire in caso di pentimento e di perdono la possibilità di una certezza di eterna felicità che diminuisce di molto l'orrore di quell'ultima tragedia. Dicevo che questa parte del ragionamento del ladro per Beccaria è debole perché Beccaria sostituisce, dopo aver ascoltato la tesi del ladro, sostituisce la prospettiva di un breve tempo, quel breve tempo che intercorre tra il reato, la felicità goduta e la pena di morte, e invece ad un gran numero danni, vale a dire a quella schiavitù perpetua che ben prima ha enucleato. Una prospettiva che sicuramente porterebbe il ladro ad accettare il deterrente che lo tratterrebbe dal compiere i reati e quindi ribadisce che lo spettacolo del supplizio non fa altro che indurire l'animo piuttosto che correggerlo. La tesi è chiara e Beccaria la ribadisce. Non è utile la pena di morte, non è utile se si vive in uno stato in cui le leggi rappresentano le moderatrici della condotta degli uomini. Proprio per questo va esclusa l'idea di un fiero esempio, cioè di un caso esemplare della pena di morte che risulta funesto quanto la morte legale è data con istudio e con formalità. Ribadisce anche che è un assurdo per quanto riguarda il fatto che le leggi sono l'espressione della pubblica volontà e le leggi come tali detestano e puniscono l'omicidio. Pertanto non possono essere le leggi le prime a giustificare l'assassinio di un cittadino. L'intero testo è costellato da questi richiami alle leggi. All'inizio aveva parlato del tranquillo regno delle leggi, alla riga 32 parla di un, della nostra edizione, parla di un salutare terrore che la legge conta di inspirare, al 49 richiama il potere delle leggi, al 62 dice per non violare le leggi, secondo l'assassino sono le leggi stesse ad aver determinato un grande intervallo, vale a dire una così ampia differenza, rilevante differenza tra lui e i ricchi. Alla riga 80 si dice che il vivere libero e sociabile, quindi vivere in società, è schiavo delle leggi che proteggono. Alla riga 86 l'abbiamo sentito, si parla delle leggi che sono moderatrici della condotta degli uomini e moderatrici all'opposto del fiero esempio di cui parla immediatamente dopo e poi si parla ancora di morte legale al 88 e delle leggi, come l'abbiamo sentito, espressione della pubblica volontà. Dove porta, quale conclusione porta questo percorso argomentativo? Alla considerazione che è vero in tutte le nazioni la pena di morte è sempre stata praticata, ma non per questo risulta giustificata. Anzi, gli illuministi che rileggono la storia alla luce della ragione e Beccaria e tra questi rinvengono senz'altro nella storia della civiltà, nella storia dell'umanità, un immenso pelago di errori. Così si esprime Beccaria, vale a dire la storia degli uomini coincide con un mare immenso di errori. I sacrifici umani furono comuni a tutte le nazioni, è vero, ci furono anche alcune che si astennero dal dare la morte, ma quello che connota in negativo la storia dell'umanità e contro questo sicuramente gli illuministi intendono prendere ferma posizione è il fatto che la storia dell'umanità si configuri come una lunga e tenebrosa notte che involge gli uomini. Nella sostanza si riconosce da parte di Beccaria che l'epoca, che l'epoca fortunata in cui, così si esprime Beccaria, l'epoca fortunata in cui sia diffusa la verità come ora è diffuso l'errore, non si può certo che sperare che si realizzi questa epoca. E su questa considerazione che vuole essere un buon auspicio si conclude il percorso argomentativo di Beccaria. Ribadisco un testo interessante, certamente rappresentativo del modo di pensare degli illuministi lombardi, un testo che mette al centro il diritto alla libertà per ogni uomo e il diritto alla difesa della dignità dell'uomo. In questo senso la pena di morte non può che essere rigettata.